Ragazzi, vi dico solo una cosa, che questo robot non mi sembra affatto amichevole E bella c'era quella che mi parla, benvenuti in un nuovissimo video Oggi siamo qui per giocare con questo robottino Allora raga, mi sembra cattivone questo, eh Andiamo in tutte le modalità Prima a raffagemme, vediamo come se la cava Vediamo come se la cava Io, sinceramente, ho una paura assurda, eh Quindi c'è Eh, va bene, rosso, va bene, va bene Va bene, va bene, sarà devastante Allora, spara tipo i colpi di Jesse, sì, eh E cos'è la super? Quanto va... Eh, quanto va lontano sto coso Ragazzi, like se mi piace questa serie E mi porterò... L'ho ucciso con una bomba Con la super l'ho ucciso Ah, manco tocca a terra Esplode subito Va bene Ragazzi, volete che vi porto tutti i personaggi Questa può stare in una serie Che ci sono anche i personaggi Guardate, guardate Qua la Pam Intanto vi spoilerò Spara il fuoco Quindi se volete 15 like E vi porto con la Pam E se volete, ovviamente Il continuo di questa serie Raga Devo sentire almeno i 20 like Raga, cioè Non ho bisogno di supportare questa serie Cioè, guardate con la Pam A scuola lì Spara a fuoco Non vi dico nient'altro Sì, però Se sono l'unico a giocare Cioè, raga Veramente Sono l'unico a giocare In questa partita Cioè Non mi sono dimenticato Di accendermi la luce Oh, non si rompe Le scatole al robottino Cioè Dai, spara Pam Che vogliono vederti Beh, avete visto? Avete visto quello che ha fatto Pam? La super questa Fuoco ovunque Cioè Ragazzi Se la volete Devo vedere i supporti In questo video Cioè Ho bisogno di Il mortaio di Penny Cosa ha fatto? Mi ha bombardato Vabbè Vabbè No comment GG E la raffagemme Ce l'abbiamo ragazzi Io Sono stupito Da questo robot Andiamo direttamente Cosa è questo? Raffagemme Tutte le raffagemme Ci hanno messo Sopravvivenza Andiamo Direttamente Raga Io Sono veramente Curioso Di provarlo E ricercati Che bisogna Fare le kill Sono veramente Curioso For the win Mi c'è già un bot Che non sa Contro chi si è messo No raga Qua è devasto Qua fa devasto Aspetta Con sto robot Con sto robot Si possono fare Il record Di kill Tutte le 10 kill In sopravvivenza Le 9 kill Le 9 kill Scusate ragazzi Che Mi parla Che sta giocando Mi sta guardando Con lo schermo Con lo schermo Condiviso Dai Non c'ho voglia Aspetta Io devo andare A provare A provare Sto cosi Ricercati Dai Un power up C'è Ragazzi C'è C'è Poi che abbiamo Dopo la sopravvivenza Ci sono troppe Ma piglia Raffagemme Comunque C'è Guarda Quante di sopravvivenza Rappina Abbiamo Abbiamo Rappina Allora Il rapina E Il tipo Di un forte Perché c'è Un colpo Gli fai fuori La cassaforte Poi vi spoilerò Cosa c'è In sto gioco Poi ve lo spoilerò Ragazzi Se lo volete Dovete spaccare Il tasto Del like C'è Guardate Quanto è forte C'è Io praticamente Sono tutta la giornata Così Intanto sono già La loro cassa Non posso vederlo Perché c'è La webcam Sopra Però c'è È già È già morta Bombone Tattico C'è Raga È illegale Questo robot È illegale Poi ci sono Gli altri Di robot C'è Ci sono Gli altri Di robot C'è Dopo Rappina C'è i ricercati Che è l'ultima modalità O poi c'è anche Sì C'è anche assedio Poi Assedio C'è Devastante Credo Vabbè Ma in tutte le modalità È devastante C'è Poi fa Fa la cosa Di stecca Proprio Nerdatissima C'è i ricercati Raga No vabbè I ricercati È fortissimo C'è 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 raga C'è raga Cosa mi state dicendo Guardate Con questo C'è Fai Tutto Ma L'ho Ucciso No 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 Chi Chi ha Ucciso Questo Bull Ma Ucciso Forse C'era complice Anche questo Call Sicuramente Questo Bull Questo Bull Questo Bull È cattivo Questo Bull È cattivissimo Mio dio Mio dio Sono bassissimo Ok Oh Se la cavolo Questi botte Per essere Bot Bombone Sprecato Ok C'è raga Io c'ho Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Stelle Se mi uccido Sono morto Ok Ho capito Che Ma raga Non si può Finire Sta modalità Quale Tipo Non è che Facciamo Tipo Record Di stelle In sta modalità Con sto Robot No Gli dà Tutto Stelle Gli dà Tutto Stelle Aspettate Quante Stelle Gli dà Stanno A 28 Loro Gli dà Tipo 8 Stelle Gli ho Regalato A questi Qua Ma poi E' devastante Con sta Cosa Per quando Sono fatte Bene Per i Brawl Fatte Così Mi piacciono Un botto Non so Voi Fatemelo Sapere Nei Commenti 76 Stelle Io Pensavo 37 Loro Io Sinceramente Credo Che si Possa Arrivare Benissimo Anche A 100 Di Stelle Se ci Metti Un po' Più Di Impegno Con Altri Robot Lo Credo Io Ci Credo Io Ci Credo Sono Troppe Queste Ma Di Contarli C'è Una Una C'è Football Prima E Poi C'è Assedio C'è Da solito Ci sono Poche Mappe Allora Su Football Ha Tanta Vita E Questa Cosa Si Può Sfruttare Per Far Goal Per Come Sono Messe Quelle Carte Di Football C'è Vai Primo Si Vabbè Finisce Subito La C'è Non serve Manco Poi Sono Prima Ad Arrivare Io Tutti Però Pratico Easy C'è Vite Non Manco Un minuto Ci Mi Ho Messo A Fare Due Goal Sono Ecco Ogni Vita Bisogna Fare Tutte Così C'è Non Mi Sembra Giusto A Me Assedio E Un Pochino Più Lunga Assedio Eh Ah Non Lo So Due Questi Leggendari Mi Fanno Paura Ma Io Tipo Posso Pushare Io Posso Pushare Direttamente La Base Che Non Mi Fa Un Cacchio Aspetta Ci Provo Quanto D'onda Mi Fa Mi Fa Mille A Danno Ci Posso Stare Un Po Eh Vabbè Eh Vabbè Ho Già Fatto Un Botto Di Danni Chi Se Ne Frega Ho Preso I Bulloni Io Già Fatto Un Quarto Di Danno Di Vabbè Il Livello 2 L'abbiamo Fatto La Bombona Quanto Cacchio Di Danno Fa Se Lo Buttiamo In Torre Oh Dai Fammi Tirare Almeno La Bombona Ok Sette Mira La Bombona Sette Mira La Bombona Vinta Cioè Cioè Raga Raga Ma Che Più Lunga Ha Devastato Sto Brawler Abbiamo La Dimostrazione Che Questo Brawler Immortale Piccolo Spoiler Allora Abbiamo Questi Brawler Super Saiyan A posto Dei Leggendari Tutti I Brawler Super Saiyan Che Hanno Delle Abilità Specialissime Tipo T Che Spara 50 Bombe A Colpo Più O Meno Poi Abbiamo Lui 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 Che Abbiamo Usato Oggi E Lui Dea Anche se Prima volevo Usare Lui Però Poi Volevo Prima Portarvi Lui Perché Ha Un Attacco Abbastanza Spare Lei Quella Che Spara Il Fuoco E Poi Abbiamo I Comuni Che Questi Sono I Più Scarsi Che Non Proveremo Che Sono Quelli Normali Del Come Funziona Mettiamo Il Più Forte Secondo Me Di Super Saiyan Che E Pam Secondo Me La Più Forte Di Super Saiyan Andiamo In Una Raffagemmi Faccio Vedere Un Secondo Come Funziona Capite Perché Veramente Ragazzi Cioè È Troppo È Troppo Forte Se È Bars Normale No Ma Guardate 600 A colpo Poi C'è Cosa È Scarso Ho sentito È Scarso Da qualcuno Di Voi Va Bene Allora Aspettate Di Vedere Cosa Cavolo Fa Tic Vi faccio Vedere Tic Raga Visto Che L'avete Voluto Voi Io vi Faccio Vedere Cosa Fa Tic Vi Faccio Vedere Cosa Fa Tic Sì Va Bene Dai Voglio Fargli Vedere Intanto C'è Sempre La Super Carica Guardate Quanta Super Lancia E Posso Lanciarle Due C'è Guardate Quante Bombe Lancia Posso Lanciarle All'Infinito Perché I danni Sono Infiniti Guardate Che Super E Che Super E 15 Like E Andiamo A provarli Tutti Ragazzi Se il video Vi è Preciuto Lasciate Un bel Pollicino In su Iscrivetevi Al canale Bella Ragazzi